con oggi iniziamo un appuntamento mensile nel quale io vi proporrò dei libri libri che ho letto che mi sono piaciuti e che sono state delle belle letture per me e quindi spero che possano esserlo anche per voi oggi inizierei con un libro che è un classico ed è il diario di anne frank probabilmente questo libro è già stato letto è sicuramente conosciuto ed è proprio questo il motivo per cui l'ho scelto perché è uno di quei libri che tutti conoscono perché chi non conosce la storia di anne questa ragazzina ebrea tedesca che a un certo punto con la famiglia per sfuggire alle persecuzioni razziali dei nazisti trova rifugio in un alloggio segreto quello che le definisce la casa sul retro e comincia a scrivere un diario che dura per poco più di due anni alla fine purtroppo la la fine la conosciamo la ragazzina con i suoi familiari verranno scoperti verranno catturati dai nazisti e deportati in un campo di concentramento ma è proprio vero che tutti abbiamo letto questo libro e matteo corradini che è il curatore di questo libro in una presentazione ha detto una cosa che mi ha colpito molto anne frank è un po come pinocchio tutti sanno in che cosa consiste la storia di pinocchio però probabilmente non tutti hanno letto il libro di collodi e allora ho pensato che sì è vero io il libro di pinocchio l'ho letto l'ho letto i miei figli tanti anni fa ed è stata una bella scoperta perché anch'io conoscevo la storia ma non l'avevo mai letta in tutti i suoi capitoli in tutto il suo sviluppo e allora approfittando di questa nuova edizione che è stata pubblicata proprio recentemente dalla dai grandi classici burr curata da matteo corradini di cui adesso vi dirò qualcosa ho pensato che dovessi proprio rimediare questa mancanza e così ho incominciato questa lettura che ho finito pochi giorni fa e che adesso vi voglio proporre allora intanto due parole su matteo corradini che ha curato questa bella edizione matteo corradini è un giovane scrittore piacentino di borgonovo valtidone che si occupa da sempre della shoah e della didattica della memoria è un libro corposo perché in questo libro vengono raccolti viene fatta sintesi tra le diverse versioni dei testi che anne frank scrisse nella durante la il nascondimento nell'alloggio segreto ad amsterdam come vi dicevo anne frank era una ragazzina quando cominciò a scrivere il diario aveva 13 anni e questo diario era stato il regalo di compleanno che il padre aveva comprato in una libreria vicino casa proprio tre settimane prima che si trasferissero in questo alloggio segreto quando si ritrovarono nascosti nell'appartamento che si trovava sul retro della fabbrica dove il padre di anne lavorava era una fabbrica che produceva pectina e altri aromi quindi tutti quegli elementi che servono per fare le marmellate per esempio e dietro era già stata studiata da tempo questa sistemazione c'era un appartamento che il padre aveva poi utilizzato traslocando tutta la famiglia proprio in vista della necessità di rifugiarsi di sottrarsi alle persecuzioni che ormai erano diventate all'ordine del giorno anche nella cittadina olandese loro avrebbero voluto trasferirsi negli stati uniti non era stato possibile per loro ottenere questa autorizzazione e quindi a un certo punto fu necessario per la famiglia nascondersi anne aveva 13 anni aveva una sorella si chiamava margo e con la mamma e il papà andarono in questo appartamento che poi accolse altre quattro persone quindi per più di due anni in otto vissero nascosti nascosti ma aiutati da una serie di benefattori che erano poi amici di famiglia e anche persone che lavoravano nella fabbrica del padre che hanno garantito a loro per tutto questo tempo gli alimenti i libri i libri sono un grande protagonista di questo diario perché questi ragazzi lei la sorella e gli altri non avendo altro da fare non potendo uscire non potendo andare a scuola continuarono a leggere a leggere a leggere e i libri furono un grande sostegno per tutti loro consideriamo che questo diario come tutti coloro che tengono un diario ha proprio una cadenza giornaliera e quindi si tratta di due anni i testi infatti vanno dal 12 giugno 1942 al primo agosto 1944 purtroppo poi sappiamo il finale la famiglia fu scoperta probabilmente per una delazione forse addirittura di una persona vicino a loro di un magazziniere della fabbrica e comunque arrivarono i nazisti li catturarono e la famiglia fu deportata in un campo di concentramento in germania morirono tutti tranne il padre anzi per essere precisi anne morì di tifo nel febbraio del 1945 il padre è ritornato poi ad amsterdam venne in possesso dei quaderni della figlia e li fece pubblicare perché anne scrive un diario e anne scrive un diario perché come tutte le adolescenti come tutti gli adolescenti in particolare forse le ragazze le apparteneva l'idea di scrivere di scrivere di sé di raccontare le sue giornate eccetera scrive un diario perché a un certo punto si ritrova senza tutta la ricchezza che apparteneva alla sua vita gli amici la scuola il divertimento le passeggiate la natura la fotografia non dimentichiamo che il papà di anne e anne stessa erano persone molto molto curiose e anche inclini proprio all'espressione non c'era esperienza che loro vivessero che non venisse poi espressa raccontata per esempio attraverso le fotografie ho visto molte foto di anne della sorella che sono state scattate dal padre che ci danno proprio l'idea concreta di questa ragazza che non è un personaggio di fantasia è proprio una ragazza una di noi una persona vera in carne ed ossa che ci che racconta a sé stessa innanzitutto la sua vita e poi la sua vita è arrivata fino a noi attraverso le sue parole ecco dicevo che matteo corradini cosa fa prende tutti i quaderni di anna frank e li mette insieme mettendo insieme quelle che anche storicamente vengono definite le diverse versioni una versione a una versione b eccetera perché questo perché anne quando comincia il nascondimento nella casa sul retro come la chiama lei scrive su questo quaderno che gli è stato donato proprio per come diario poi a un certo punto il quaderno finisce ma lei va avanti di anno in anno a scrivere e nella primavera del 44 sentendo la radio nell'appartamento c'era una radio alla quale loro che loro sentivano tutti i giorni perché dava le informazioni più dettagliate più aggiornate sull'andamento della guerra sull'andamento anche dell'arrivo degli alleati da cui ci si aspettava appunto una liberazione sente un messaggio che invita gli ebrei a tenere un diario a tenere traccia di quello che stanno vivendo perché è finita la guerra questo rimarrà come documento allora cosa fa anne anne riprende i quaderni scritti all'inizio e li trascrive li riprende con l'obiettivo di dare dei suoi diari una versione migliore una versione rivista una versione corretta una versione rimaneggiata ecco proprio perché questi diari dovevano a un certo punto potevano avere anche una vita pubblica quindi il diario non serve più soltanto a lei come sostegno personale per poter sopportare la solitudine del rifugio del nascondimento ma possono diventare una testimonianza ecco allora Corradini cosa fa prende la versione a quella originaria scritta appunto su più di un quaderno da anne e quest'ultima versione che scaturisce dalla trascrizione che lei comincia a fare nella primavera del 44 e che si concluderà poi il primo agosto perché poi non abbiamo più traccia perché anne viene appunto catturata insieme alla famiglia e li mette insieme perché sono quasi sovrapponibili però si notano delle differenze che sono molto interessanti perché anne in questi due anni cosa fa cresce è una ragazzina di 13 anni e poi esce da questa esperienza avendo compiuto 15 anni e questi due anni chiusa in questa casa con la quale nella quale vive con i genitori con la sorella e con altre quattro persone lei vive non solo l'esperienza legata alla guerra legata alla persecuzione ma vive anche l'esperienza della sua trasformazione personale è un adolescente che cresce è un adolescente che vede in sé la trasformazione della crescita le vengono le mestruazioni e questo è un elemento che cambia la sua vita lei si appropria del suo corpo e lo studia lo descrive proprio meticolosamente quasi in un modo in un modo direi quasi scientifico perché anne è una ragazza intelligente curiosa che legge che sa e che vede su di sé applica su di sé le conoscenze che ha acquisito e cerca di capirsi cerca di leggersi nel passare del tempo il linguaggio degli ultimi mesi quello degli ultimi dell'ultimo periodo è un linguaggio più meno cronachistico meno meno fresco meno spontaneo se vogliamo ma è un linguaggio di una persona che riflette e che proprio in quell'esperienza lei stessa dice in quest quest tutta questa sofferenza che io ho vissuto in questa storia mi ha fatto crescere e questo lo si capisce molto bene chiunque vive una grande sofferenza si trova come improvvisamente accelerato nella propria crescita ed essendo lei una persona con una grande interiorità approfitta anche inconsapevolmente di questi di questo tempo per andare in profondità di se stessa per farsi delle domande noi ci troviamo a leggere queste pagine con molto rispetto con molta discrezione e anche con l'intento di imparare da lei da questa sua grandissima forza leggiamo alcune parole sue siamo nel marzo del 1944 lei dice a un certo punto e di sera quando sono a letto e finisco la preghiera con le parole ti ringrazio per le cose buone care e belle dentro di me esulto e penso alle buone al nascondiglio alla mia salute a tutta me stessa alle care a quello che un giorno verrà l'amore il futuro la felicità e alle belle ovvero al mondo il mondo la natura e la vasta bellezza di tutto tutte le cose belle insieme non penso dunque a tutta la miseria ma alle cose belle che ci sono ancora è qui che sta una differenza fondamentale fra me e la mamma il suo consiglio contro la malinconia è pensa a tutta la miseria che c'è nel mondo e si felice che non tocchi a te il mio consiglio è esci va nei campi nella natura al sole esci e prova a ritrovare la felicità dentro di te pensa a tutta la bellezza che cresce dentro di te e intorno a te e si felice e chi è felice renderà felice anche gli altri chi ha coraggio e fiducia non soccomberà mai alla miseria questa era anne